Via Marco Peregno è pronta ad ospitare la quarta edizione dell'Orange Night organizzata da Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio e CNA Arezzo con il patrocino del Comune, il contributo di Banca Valdichiana. Per una sera la strada si trasformerà in un'isola pedonale con tante occasioni di shopping e incontro per le famiglie e il divertimento per i più piccoli. Anche quest'anno si ripete la festa, è stato un grande successo l'anno scorso contiamo che sia di nuovo così anche quest'anno ci saranno un sacco di attrattive, cose interessanti, la solita sfilata e una grande collaborazione da parte di tutte le attività appunto nel riuscire quindi speriamo che vada bene. Questa è una strada importante di accesso alla città noi è ormai il quarto anno che collaboriamo per la riuscita della festa quindi siamo contenti che sicuramente quest'anno ci sono tante novità e tante attrazioni interessanti e è una strada da vivere e da visitare quindi vi aspettiamo il 25. Io vedo sempre molto positivamente questo tipo di eventi di strada poi hanno un gran successo di pubblico quindi solo quella è la dimostrazione che funziona poi quando le associazioni si mettono insieme per me è ancora più positivo perché io sono dell'idea che dobbiamo stringere i denti e fare squadra quindi a maggior ragione questo fine settimana veniamo tutti in via Marco Pereira. Sì sicuramente quando siamo tutti insieme insomma c'è un bel mix di competenze e di qualità poi c'è in questa strada diciamo la passione dei commercianti che è l'elemento vincente quindi invitiamo tutte le persone a venire perché con la passione dei commercianti la qualità dei loro prodotti la qualità del loro servizio vi faranno passare una bellissima sera. Qui è una festa che prende tutte le quattro associazioni che è una cosa importantissima perché la squadra tutti insieme fa forza e noi commercianti abbiamo voluto questo perché la strada fa parte di varie associazioni perché siamo associati a diverse associazioni è giusto che siamo tutti insieme e oltretutto la qualità è molto alta perché quando ci si sforza in questo modo viene una bella cosa. Vi aspettiamo.